buongiorno a tutti e benvenuti ad un altro approfondimento della call for craft oggi abbiamo il piacere di avere massimo ciotta con noi massimo che si occupa di comunicazione marketing ed è l'inventore del piano make ciao massimo buongiorno ciao enzo buongiorno allora oggi parliamo appunto del percorso che farai con i 12 artigiani della call for craft che è un percorso direi estremamente interessante ci tengo a parlare del titolo che è come moltiplicare vendite e margini senza aumentare la spesa pubblicitaria e credo che in questo momento si sono rizzate le antennine a un sacco di persone raccontaci il viaggio che farai fare agli artigiani in questa formazione sì allora il concetto è che negli ultimi anni gli strumenti digitali sono diventati alla portata di tutti quindi per aziende anche piccole aziende come possono essere laboratori e artigiani è diventato semplice poter raccontare quello che fanno quello che producono e come si posizionano sul mercato di contro però è arrivata anche un'ondata di concorrenza dovuto proprio al sovraffollamento dei prodotti e servizi e quindi noi andremo ad approcciare tutti quelli che sono gli strumenti digitali però è un'ottica proprio di differenziazione sul mercato e di recupero anche di quelle che sono le opportunità di business quindi piuttosto che parlare di non solo di come fare le campagne vedremo anche quello ma vedremo anche quelle che sono le strategie con altri strumenti meno conosciuti ad esempio il crm per andare a recuperare vendite immagini spesso lasciate sul piatto su dagli imprenditori quindi quando si parla di web marketing spesso sento parlare sempre in ottica di acquisizione nuovi clienti clienti ma acquisire un nuovo cliente solo una fase del processo noi all'interno del piano make abbiamo decodificato proprio un metodo di lavoro che parte dal posizionamento cioè andare a capire cos'è che ti rende unico che ti rende desiderabile che ti rende speciale sul mercato e su quello costruire poi una strategia di marketing successivamente inizia proprio la fase delle campagne e dell'acquisizione dei clienti che è in sei step cioè noi non ci fermiamo solo all'acquisizione del nuovo cliente però vogliamo anche spostarlo su prodotti e servizi ricorrenti ad esempio quindi andiamo a formulare dei modelli di business differenti come ha fatto netflix negli ultimi anni per cercare proprio di tenere il cliente in maniera ricorsiva è perché è lì il vero valore per per l'azienda quando i clienti sono fedeli e però non solo cerchiamo anche di sfruttare tutte quelle occasioni di referral ad esempio sfruttando recensioni o sfruttando il passaparola in maniera organizzata per trovare nuovi clienti a costo zero quindi io penso che questo percorso sia molto molto bello farò vedere degli esempi proprio di grandi aziende che hanno costruito il loro successo con questo modello ad esempio dropbox ad esempio spotify per cambiare proprio le regole del gioco e partire da zero e costruire un aziende solide e floride quindi si troveranno innanzitutto avranno il vantaggio gli artigiani di utilizzare un metodo comunque originale che tu hai elaborato e quindi molto particolare e l'idea secondo me veramente importante è quella se sempre un grande lavoro che faranno questi artigiani nel nel percorso è quello di mettere sempre meglio in chiaro quello che è la struttura della loro attività i loro elementi distintivi ma in particolare in questo percorso il valore aggiunto è il fatto che gli elementi distintivi verranno portati a sistema di un piano di comunicazione mi verrebbe da chiamarlo organico rispetto alla differenza della della sponsorizzazione della di quelle siamo la sponsorizzata quindi di pagare il marketing ma quindi c'è una maggiore attenzione a quello di creare proprio questo elemento organico della comunicazione del marketing sì le due cose vanno di pari passo quindi se nel piano di comunicazione organico che oggi prevalentemente avviene social quindi facebook e instagram ad esempio quindi se la questi artigiani raccontano cose scopiazzando magari da competitor un po più grossi purtroppo non funziona quindi proprio perché sono degli artisti hanno bisogno di trovare un modo di narrare quello che fanno molto originale molto singolare molto molto nuovo ok successivamente però purtroppo negli ultimi anni facebook ed instagram sono passate all'incasso quindi di fatto hanno nascosto tutta quella che era la visibilità che 10 anni fatti davano gratis adesso purtroppo è completamente azzerata quindi in un certo momento c'è bisogno di sponsorizzare qual è il problema che costi pubblicitari sono in ascesa astronomica quindi è diventato costosissimo adesso poi c'è stato un aggiornamento di apple con ios o la campagna deve essere progettata e costruita in maniera molto intelligente tenendo sotto occhio i costi e ricavi ok quindi abbiamo bisogno proprio di numeri che ci dicano come stanno andando le cose dove intervenire per ottimizzare il processo e nel piano make parleremo anche di questo perché se la m sta per mercato make un acronimo dove nella m si parla del mercato della differenziazione la è l'acquisizione clienti poi abbiamo la k lei che sono kpi economics sono tutti quegli indicatori di performance che ci dicano come sta andando nostro marketing ma soprattutto in economics se l'azienda sta procedendo producendo profitti quindi è un lavoro che anche abbastanza approfondito quello che faremo e che darà degli strumenti immediatamente applicabili proprio per iniziare a fare marketing in maniera strutturata benissimo massimo guarda ti ringrazio e non vedo l'ora di partire con questa con questa avventura e con questo viaggio perché l'utilità e il valore aggiunto che possiamo dare agli artigiani con questo tipo di percorso è veramente inestimabile grazie a te è tutto il MIP a presto ciao Massimo ciao